Salve, buonasera a tutti, ci troviamo questa sera per parlare un pochettino della nostra visione dell'America, noi siamo edizioni Black Coffee, io faccio un po' gli onori di casa non avendo un interlocutore esterno, siamo tutti una redazione, io sono Sara Reggiani, fondatrice insieme a Leonardo della casa editrice edizioni Black Coffee, mi occupo del programma editoriale, quindi sono direttrice editoriale del catalogo, Leonardo anche lui mi dà una mano nella scelta dei testi e soprattutto si occupa che la casa editrice stia in piedi dal punto di vista amministrativo e contrattuale e poi collegata da un'altra città c'è Federica che è la nostra redattrice, nonché mio braccio destro come editore in erba per nuove strade, sperimentazioni del catalogo. Dunque, il nostro incontro viene dopo un momento importante per l'America, questo è un ciclo di incontri dedicato appunto alla visione dell'America delle varie case editrici che sono state chiamate a intervenire e noi siamo la prima case editrice che vi incontra dopo questo momento importante che è durato secoli e ancora deve finire, delle elezioni presidenziali americane in cui sembra appunto che i democratici stiano prevalendo e questo cambia molto sia la visione che noi abbiamo del panorama che trattiamo, che studiamo e che poi proviamo a restituirvi, sia il nostro stato d'animo, onestamente molto più sollevato, non so i presenti cosa ne pensino, però il ritorno dei democratici apporterà, si spera, dei rimedi ai grossi errori che sono stati compiuti in questi ultimi 4 anni. È bufo perché edizioni Black Coffee nasce proprio intorno all'inizio dell'era Trump, noi nasciamo all'inizio del 2017 ma insomma già nel 2016 eravamo pronti a partire e siamo partiti con una visuale dell'America che era un po' figlia di quello che era stato fatto prima anche a livello di letteratura, guardavamo un po' i nostri colleghi per capire quali erano le tendenze giuste da portare in Italia, fino a che questi 4 anni non sono passati e con il passare del tempo si è evoluta anche la nostra visione di che cosa sarebbe giusto e necessario farvi vedere dell'America. Siamo una casa editrice indipendente quindi abbiamo anche il privilegio che a volte si rivela anche un motivo d'affanno in ogni caso, il privilegio di portarvi cose che noi riteniamo valide, quindi il nostro è un punto di vista molto soggettivo, molto indipendente quindi le realtà che vi portiamo sono, raramente arrivano qua e lo possiamo fare perché specifico semplicemente il fatto che questa è una casa editrice che nasce da due traduttori, quindi il lavoro che abbiamo sempre fatto è un lavoro sul campo di ricerca e i testi che vi proponiamo sono testi che arrivano a voi dopo che ci sono stati consigliati dagli abitanti di questo paese, critici, scrittori e quindi tutto frutto di un approccio di prima mano. Stavo dicendo quindi i nostri primi quattro anni hanno sofferto della politica scelerata di Trump e gli effetti si sono visti soprattutto in ciò che scrivono gli autori emergenti che sono il nostro focus principale e ci siamo resi conto che portarvi solo autori emergenti quindi titoli un po' strani con approcci diversi dal solito con temi anche un po' scomodi era la strada giusta ma non bastava più quindi abbiamo iniziato a strutturarci e oggi vi parliamo di cosa ci portiamo dietro del vecchio percorso e che cosa invece ci siamo sentiti di dover raggiungere al catalogo. Dicevo che pubblichiamo per lo più autori emergenti quindi molto giovani e storie vere oltre a storie di finzione quindi romanzi, racconti e proprio dalle storie vere che abbiamo pubblicato negli ultimi tempi nasce un approccio che poi darà vita a una collana nuova di cui vi parlerà Federica e intanto chiedo a Leonardo di parlare appunto di questi titoli che forse qualcuno di voi già conosce e che creano un po' l'atmosfera giusta per entrare nell'America nuova. Sì diciamo che c'è stata una micro evoluzione possiamo dire anche inconsapevole il nostro catalogo perché come diceva Sara siamo partiti nel 2017 convinti di dover pubblicare, di voler pubblicare una serie di libri di un certo tipo e poi ci siamo ritrovati invece a fare i conti con quella che era una realtà oggettiva degli Stati Uniti, ossia tanti macro temi che là venivano affrontati in un certo modo e che qua arrivavano solo in determinate forme che non ci sembravano sufficienti. Un po' stereotipiche. Sì un po' stereotipate, un po' anche magari romanzate. Ovviamente il cruccio di essere una realtà editrice indipendente come dicevi te prima è che non dipendiamo quindi possiamo fare sostanzialmente quello che ci pare e avere le notizie di prima mano dagli Stati Uniti quindi stringere rapporti e legami con gli attori del mondo editoriale, del mondo della scrittura la oltreoceano ci permette di avere notizie fresche sostanzialmente quindi di avere una visione non edulcorata di quello che sta succedendo. Due esempi del nostro vecchio catalogo, usare la parola vecchio è un po' svilente perché stiamo parlando di libri che sono usciti due anni fa, massimo tre anni fa e parlano di argomenti che ahimè sono ancora profondamente attuali nel panorama culturale americano sono questi due Il giusto peso di Kizzy Leymond, un memoir americano e sempre di qua Boy Erased, vite cancellate di Gardner Conley questi due libri sono due memoir, quindi due autobiografie che sono uscite a distanza di un anno l'uno dall'altro il secondo, Boy Erased, è quello che abbiamo pubblicato prima di tutti perché il tema di cui parlava in Italia era arrivato in maniera tangente e poco approfondita e diciamo c'era una sorta anche di tabù si camminava un po' sulle uova negli Stati Uniti a parlare di questo argomento l'argomento è quello dei centri di riorientamento sessuale quindi i giovani omosessuali o comunque che stanno vivendo un periodo di crisi di identità perché non sanno bene, non sanno più chi sono vengono spinti da famiglie ultraconservatrici e ultra religiose a affrontare un percorso in dodici passi un po' come quello degli alcolisti anonimi per uscire poi mondati da questi centri dove a forza di bacchettate e di religione vengono in teoria trasformati in persone eterosessuali e funzionanti per la società. Dico che questo tema è strisciante e poco affrontato perché non tutti sanno, non lo sapevamo neanche noi prima di conoscere Garrard l'autore del libro, che ogni anno negli Stati Uniti sono 700.000 i giovani americani e le giovani americane che vengono costrette a sottoporsi a questa pratica e il libro di Garrard ci ha permesso di aprire una finestra su questo tema su questo mondo, un sottomondo se vogliamo che però nella Bible Belt è diffusissimo e la tendenza purtroppo non è quella di cambiare una situazione del genere quindi nonostante il grande lavoro di Garrard la grande visibilità che ha avuto la sua storia grazie al libro da cui hanno tratto un film di Hollywood quindi molto molto diffuso e molto visto la pratica del riorientamento sessuale non sembra aver subito grossi danni nonostante in Europa, almeno io mi ricordo che in Germania hanno fatto una legge che vieta, proibisce proprio questi centri di riorientamento sessuale però ecco è un tema che viene affrontato a spizzichi e bocconi ed è molto molto in basso nella lista delle priorità il primo assaggio quindi di portiamo temi attuali è stato Boy Erased in maniera tale, dico primo assaggio perché è stato uno dei primi memoir che abbiamo pubblicato quindi ha avuto risonanza in quanto storia vera mentre nei romanzi e nei racconti usciti prima c'erano sempre temi forti e temi importanti ma trattati in maniera diversa quindi storia vera contro finzione ha tutto un altro peso così come è storia vera, come dicevo il memoir americano di Keezy Lehman il giusto peso affronta un altro tema straordinariamente attuale purtroppo ossia il tema del razzismo lo affronta in maniera molto diversa però rispetto al solito quello a cui siamo abituati perché non racconta la difficoltà di un ragazzo nero figlio di genitori istruiti perché lui è figlio di una professoressa universitaria vive in Mississippi e questa professoressa universitaria ha avuto talmente tanto a che fare con i bianchi nel suo paese nel suo stato nella sua città e ci lavora tutti i giorni ci interagisce tutti i giorni e questa sua esperienza l'ha spinta a educare Keezy quindi il suo figlio che è l'autore di questo memoir in modo da renderlo una persona che non rappresenti una minaccia per i bianchi quindi lo vuole trasformare nel nero che i bianchi vorrebbero che sia lo fa parlare in un certo modo gli imperisce di frequentare certe compagnie quindi anche questo se vogliamo è una sorta di riorientamento culturale piuttosto che sessuale ma è un altro tema attuale in quanto il razzismo interno nelle frange nelle minoranze della popolazione quindi i bianchi verso i neri ma anche i neri verso i bianchi perché qui ci stiamo parlando di due culture che si scontrano io consiglio sempre la lettura di questo libro in particolare è uno dei miei preferiti del catalogo perché oltre ad essere scritto magnificamente accende la luce su un mondo quello di cui vi ho appena parlato che spesso viene affrontato in maniera diversa, in maniera tangente ecco noi cerchiamo con quasi tutti i nostri libri di spingerci al cuore del problema di guardare anche gli spazi fra le cose di dare un ritratto attuale e veritiero di quello che sta succedendo là e quindi anche temi come questi vengono sviscerati in prima persona dalle persone che li vivono sì, è proprio questione di, secondo noi, di restituire complessità poi a questo discorso e a questo tipo di storie si ricollegherà una collana che invece abbiamo l'anno prossimo siete i primi a saperlo tra l'altro grazie di averci dato l'opportunità di raccontarci perché in questo periodo non è usuale avere degli spazi per raccontare anche l'evoluzione di una casa editrice giovane che parla d'America che in questo momento sta vivendo un periodo che nemmeno noi potevamo prevedere e quindi secondo noi la parola che ben descrive quello che stiamo facendo e il momento che sta vivendo l'America è complesso, complessità bisogna smetterla di raccontare l'America secondo noi, non è un diktat, è un approccio il sogno americano è belle che è andato ma da mo', ma proprio tanto quindi il discorso è vogliamo capire davvero l'America cos'è adesso anche se potrebbe non piacerci vogliamo ancora continuare a pensare che l'America è abitata da dei relitti che però ce la possono fare gente venuta dal niente che diventa non è più così non è più così e c'è bisogno di trovare il coraggio di raccontare un'America in divenire non è semplice perché non ci sono punti di riferimento le categorie che c'erano prima non valgono più è tutto sfasato è motivo per cui abbiamo chiesto anche aiuto chiediamo aiuto le realtà che ci sono là sono talmente complesse talmente stratificate che visitando seppur spesso il paese come facciamo noi dicevamo noi non c'è verso di cogliere tutta la complessità di quello di cui vogliamo parlare e quindi ci affidiamo anche a chi lo vive persone che vivono tutti i giorni questa situazione uno di questi è John Freeman per esempio abbiamo cominciato con lui a pubblicare la sua rivista Freemans questo è l'ultimo numero che è uscito California abbiamo cominciato con scrittori dal futuro poi è uscito Potere è una pubblicazione annuale che però esplora attraverso una serie di attraverso un macro tema quindi per ogni numero c'è un tema questo parla per l'appunto della California e vengono questi temi vengono raccontati e sviscerati da 25-26 scrittori ogni volta che pur venendo da tutto il mondo si concentrano però su quello che è un tema quindi questo è americano nella misura in cui gli scrittori americani possono raccontare quello che sta succedendo ragionando intorno al tema per esempio del potere per esempio scusami se ti interrompo è importante dire per esempio in questo numero che è quello che magari qualcuno di voi ha già non si parla di California così come è stato è uno spunto perché la California oltre a essere diventata abbastanza all'epicentro del fermento letterario di questo periodo quindi la costa ovest è un po' più viva della costa est a quanto pare ma anche perché in California sta succedendo in piccolo quello che probabilmente succederà poi a tutto il mondo anche a livello climatico lì tra gli incendi e i terremoti e tutto quello che sapete benissimo che è successo in questo periodo recente è un piccolo specchio di quello che probabilmente vedremo anche noi in altre parti del mondo quindi c'è una riflessione sui cambiamenti climatici su cosa significa vivere in un posto che la natura si sta riprendendo e non succede solo in California sta succedendo praticamente a tutta la costa ovest per prima oltre che la costa est già succede da tempo con uragani e tutto quello che sappiamo quindi anche questo è un tema è un tema assolutamente da affrontare e anche qui cerchiamo di farlo dall'interno quindi da prendendo le testimonianze di persone che vivono tutti i giorni in una situazione del genere poi California dicevi che è super ricca a livello di scrittura a livello di letteratura perché non ci dimentichiamo poi che in California c'è anche tutta una un movimento dei nativi americani California Arizona Nevada queste zone qua del dell'ovest americano sono in fermento continuo anche per il tema assolutamente mai affrontato perché tanto in Italia ci prega dei diritti delle popolazioni nativi americani per esempio ritornando proprio alla situazione delle elezioni se voi pensate che le percentuali che vedevamo di votanti era sempre le voci erano sempre popolazione bianca popolazione nera latinos come se fossero tutta la stessa ribongia i latinos della costa est non sono affatto come quelli della costa ovest e questa cosa è ora di differenziarla anche in Italia siamo capaci di capirlo e alla voce altro ci sono i nativi cioè altri sono i nativi americani e quella lì è la loro terra e quindi vogliamo parlare anche di loro ma non come gli indiani con le frecce o gli indiani che si ubriacano perché vivono nelle riserve non è più così nemmeno quello quindi non è tax will parlando con autori indiani che porteremo l'anno prossimo l'unica cosa che proprio tipo urlo veniva fuori era ma noi possiamo parlare di altro noi ok che siamo indiani ma abbiamo problemi anche simili ai vostri e vorremmo parlare di quello che viviamo tutta la vita nella vita normale i giovani indiani che siano nelle riserve o meno avranno qualcosa da dire e quindi è anche grazie a operazioni come quella di Frimas che ci siamo resi conto che c'era un gran buco lì che proveremmo ad andare molto lentamente a riempire perché facciamo poche pubblicazioni all'anno intanto ci abbiamo provato con Nova Poesia Americana Nova Poesia Americana è una raccolta di un'antologia di poesia sono sei poeti a numero esce ogni anno curata sempre da John Freeman e da Damiano Abeni con le traduzioni di Damiano dove si dà spazio a oltre al genere della poesia che è un po' distrattato e considerato meno rispetto alla narrativa e alla saggistica al di là di questo che può essere soggettivo come gusto personale i poeti nativi americani sono le personalità che negli Stati Uniti stanno facendo sentire la loro voce con più forza quindi ci sembrava scontato se volevamo dare spazio anche alla loro voce cominciare una nuova collana di poesia io ammetto la mia ignoranza di poesia non so niente però la motivazione alla base della creazione di questa nuova collana è assolutamente legittima e più che in linea con quello che ci proponiamo di fare con la casa editrice quindi dare voce a frangere la popolazione americana che al momento voce non hanno o se non altro è poco udita quindi poesia americana come modo per far sì che questi poeti nativi americani si esprimano e esprimano quello che hanno da dire è proprio un gran fermento il mondo della poesia là non ci sono solo poeti nativi naturalmente nelle antologie ma il loro lavoro ha una grande potenza espressiva e a proposito di nuove collane c'è anche la collana quella dedicata all'ambiente è riduzione parlarne come collana dedicata all'ambiente è una collana di antropologia geografica o geografia antropologica se vogliamo sì fa parte proprio di questa strutturazione del catalogo appunto siamo partiti facendo solo narrativa poi un po' di memoir poi abbiamo inserito una rivista per dare uno sguardo più corale poi ci siamo fidati di quello che ci diceva John ovvero se mi date l'occasione voi siete il mezzo fatemi parlare di poesia perché guardate che qui ce n'è da dire e non è scontato e a lui abbiamo affidato questa collana questo fino a prima delle lezioni poi adesso basta abbiamo pensato anche che un'altra sfaccettatura di cui si parlava poco è il rapporto dell'americano con il territorio che occupa che è sempre stato motivo di divisione ed unione questi immensi spazi che sono il loro paesaggio che sono il nostro immaginario cinematografico sono spazi ancora abitati sono spazi che continuano a evolversi che passano di mano in mano e che cosa può fare il territorio americano per unire mentalmente la popolazione che ci sta sopra come si fa a ricucire questo strappo fra i nativi e e i conquistatori allora abbiamo pensato di dedicare questa nuova collana che abbiamo intitolato this land solo perché in inglese solo perché land è una parola che come appunto mi faceva notare la Federica che è molto arguta nel dare voce ad alcune idee che ho la parola land in inglese ha doppia valenza di terra fisica paesaggio geografico e di territorio inteso come artefatto umano come qualcosa che ha implicazioni di tipo sociale civile alla dimensione del cittadino e quindi cosa succede se andiamo a abbiamo inserito quindi della saggistica all'interno del catalogo non c'era e non intendevamo farla all'inizio e invece abbiamo visto che c'è certa saggistica americana che non è didascalica è a volte più lirica quindi molto più a livello di riflessione e a volte più specifica quasi giornalistica il primo titolo di This Land che vi abbiamo portato è Antropologia del Turchese che è un libro a cui teniamo tanto non stiamo ad annoiarvi perché ne abbiamo già parlato a lungo in altri contesti è un libro che ci siamo cercati siamo proprio andati in Utah a parlare con la famiglia dell'autrice e a noi questo libro serve per raccontarvi che quelle zone dell'Ovest ovvero siamo nel sud-est dello Utah dove c'è una concentrazione di parchi nazionali e di riserve comunque di rovine antiche indiane che Trump ha minacciato per tutti questi quattro anni di smantellare di passarci sopra colate di cemento di farci sopra un muro tante cose volevamo farvi innamorare di questi paesaggi come li descrive Ellen prima di tutto perché anche noi abbiamo bisogno di riappropriarci del rapporto che abbiamo con il nostro paese geografico sentire l'appartenenza a quel paese per poi farvi raccontare da lei cosa succede quante divisioni ci sono all'interno di quel tipo di territorio lì e passeremo poi a raccontarvi tanti angoli d'America in cui c'è forte la sovraimpressione dell'aspetto paesaggistico sulla mentalità stessa del cittadino questa è una parte e poi volevamo sondare il rapporto del cittadino col cittadino o dell'americano con l'americano quindi un po' più a livello antropologico e lì Federica ha avuto un'ottima idea di farne proprio una collana se ti va di raccontarla Fede è una collana che inaugureremo a giugno con il primo titolo quindi ne parliamo siete i primi però ha senso farlo adesso alle domani delle elezioni perché in questi anni abbiamo cercato di fotografare un paese che stava cercando di sottrare una parte di sé allo sguardo in un certo senso di appiattire questa complessità che invece lo contraddistingue da sempre e non è un caso che questa collana si chiamerà americana che è un termine che insomma per noi è un aggettivo qualsiasi ma che in lingua inglese va a descrivere tutto ciò che è la quintessenza dell'americanità e da un punto di vista non solo di canone letterario ma anche di generi musicali o di elementi della vita di tutti i giorni che noi vediamo e pensiamo subito pensiamo subito all'America le categorie di cui insomma parlava anche Sara prima sono una cosa molto bella perché ci aiutano a fotografare la realtà però a volte bisogna riconoscere che i soggetti al loro interno sono cambiati e quello che cerchiamo di fare appunto che cercheremo di fare con questa collana che l'anno prossimo vedrà due titoli uno è una raccolta di saggi di un autore afroamericano e l'altro è sempre una raccolta di saggi invece di un poeta canadese nativo americano è un tentativo di fotografare sia da un lato la diversità che contraddistingue gli Stati Uniti di cui parlavamo la composizione demografica delle persone che ad esempio hanno appena votato in queste elezioni da un punto di vista di etnie ma anche di orientamenti sessuali di comunità e anche quella che è la diversità dal punto di vista dei prodotti culturali che contraddistinguono la vita di queste persone e il modo in cui si danno voce sia come scrittori che come musicisti eccetera da un lato cerchiamo anche di andare a capire ed è un modo per capire non solo l'America ma insomma anche un po' la vita di tutti noi secondo me la complessità interna di ciascun individuo il fatto che nessuno di noi è una cosa sola una storia unica e quindi un esempio calzante visto che si parlava di nativi americani appunto questo questo libro che pubblicheremo l'anno prossimo in cui questo poeta che si chiama Bindi Ray Belcour cerca di raccontarsi non soltanto come una persona che si porta una storia addosso un'eredità importante ma è anche un corpo che si muove nel mondo in una maniera che non sempre si conforma alle categorie tradizionali al modo in cui viene visto dall'esterno una persona che è stranea in un certo senso anche all'interno della sua stessa comunità nativa non so credo che sia un tentativo se non altro di raccontare che cos'è l'America oggi anche con appunto una provocazione nel nome stesso della collana con cui cerchiamo di aggiornare la categoria di americani poi un po' il discorso alla fine si parlava di Belcourt comunque il discorso anche di Leimon che diventa un nero che non è abbastanza nero per i suoi per la sua gente insomma quindi è un discorso che è interessante sfaccettato super approfondito e noi facciamo del nostro meglio per darvene per darvene un assaggio però non è un assaggio come può essere un assaggio fatto da chi ne sa chi ne parla così o per sentito dire o chi ha delle informazioni di seconda mano noi cerchiamo di essere lì se non fisicamente perché adesso non si può purtroppo infatti aspettiamo a Gloria il giorno in cui potremo tornare oltreoceano ma se non fisicamente appunto con tutto l'impegno del nostro lavoro dei nostri amici la dei nostri contatti delle nostre esperienze perché abbiamo vissuto tante esperienze in America con americani di ogni tipo e questo secondo me ci aiuta anche a trovare quella che può essere la chiave per interpretare questa complessità sì certo è comunque una visione soggettiva è nostra con tutte le le mancanze che può avere però di certo c'è che studiamo molto e quindi abbiamo vogliamo davvero essere un punto di riferimento credibile per quello che sta succedendo nel nostro piccolo con le risorse di cui disponiamo e ci ingegniamo anche andate a ascoltarvi i podcast che facciamo siamo molto contenti di esserci inventati questa nuova forma di di divulgazione non ci siamo inventati niente in realtà però siamo l'abbiamo vista molto utilizzata in America e abbiamo deciso di semplicemente concentrarci sul darvi un contenuto che potreste ascoltare quando vi pare a casa per conto vostro senza bisogno di andare a una presentazione o di fare nulla di che in 20 minuti avete presentazioni di libri ma anche discorsi più generali su certi temi che ci stanno a cuore quindi vi invito anche ad andare ad ascoltarli perché sono ben fatti credo e niente quindi se avrete la pazienza di seguirci anche in questa evoluzione che stiamo cercando di di strutturare è probabile che i prossimi quattro anni speriamo con Biden sicuramente sicuramente interessanti saranno interessanti poco poco scontati sicuramente l'America che vediamo non è un'America rifugiamo gli stereotipi e ci piacerebbe che lo facessero più persone però ci rendiamo conto che è il nostro compito scappare da quel tipo di rappresentazione del paese e quindi ci vuole anche un po' di pazienza da parte del lettore di venirci dietro in un ragionamento che stiamo facendo sperando di farvi anche divertire divertire a volte divertire proprio divertire a volte è difficile perché comunque abbiamo parlato finora di storie che per un certo verso hanno del disagio al loro interno sono toccanti sono vissute in maniera negativa dalle persone che le raccontano qualcosa di divertente potrebbe esserci perché comunque ci sono tanti aspetti anche divertenti ma quello che ci interessa indagare in realtà più nello specifico è proprio la complessità e le contraddizioni e più delle volte le contraddizioni non fanno ridere quindi ecco pazienza però se volete leggere questi libri per farvi due risate forse non siamo alla fase del passaggio ecco va bene questo è più o meno una panoramica che dici Fede vuoi aggiungere qualcosa? no ho detto tutto insomma per ricollegarci al titolo di questo incontro che cos'è l'America oggi penso che abbiamo dato un quadro abbastanza esaustivo penso che questo voto sia stato anche un modo per il paese di raccontarsi di nuovo in questo senso quindi quello che cerchiamo di fare forse ha un senso sì abbiamo abbiamo voglia mi diverto io allora mi diverto a cercarle queste cose noi ci divertiamo a cercarle e a imparare perché stiamo imparando e non è bello fare editoria quando sai già esattamente come sarà come sarai fra due o tre anni è una scoperta che voi fate con noi è una scoperta in fieri anche per noi quindi vi ringraziamo di di averci ascoltato e vi invitiamo a recuperare i libri di cui vi abbiamo parlato in questa sessione a seguirci e speriamo di vederci presto dal vivo che è sempre meglio adesso noi andiamo in America quando torniamo quando torniamo grazie a tutti buona continuazione grazie ciao arrivederci ciao 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 Grazie a tutti